La defibrillazione precoce è un atto importantissimo che può permettere ad un numero pari a 75.000 persone l'anno che muoiono per arresto cardiaco, per morte cardiaca improvvisa, per rendere l'idea un Pier Mario Morosini di potergli salvare la vita, ma non tanto la vita quanto la qualità della vita, perché più presto noi utilizziamo il device, più è quindi il defibrillatore semiautomatico, più noi abbiamo la possibilità di dare la vita a quel paziente, perché è l'unica terapia in caso di arresto cardiaco nell'immediatezza dell'arresto, per cui poiché è un device, un mezzo che può utilizzare anche il laico, è fondamentale che ci sia la diffusione capillare, che il più possibile la gente sappia utilizzare questo attrezzo, come può essere un estintore, così deve essere un futuro, estintore e defibrillatore, estintore e defibrillatore, perché nei primi 3-5 minuti noi a quel soggetto non gli diamo la vita, ma gli diamo la qualità della vita, in attesa che arrivi il mezzo del 118. Lei diceva come diffondere, perché è importante nello studio dei medici di medicina generale, perché ormai è un device che sta da tutte le parti, anche nei supermercati, nelle palestre, quindi pensi in uno studio di medicina generale quanto è importante, dove vanno anche pazienti che possono avere problemi di arresto, ma soprattutto perché il medico, e qua ringrazio la sensibilità del dottor Milillo, del segretario nazionale, che ha accolto veramente questa iniziativa, il medico di famiglia è quello che veramente può diffondere ai pazienti la cultura del primo soccorso e dirgli, dottore a cosa serve? E' il defibrillatore, serve a salvare la vita e lo puoi utilizzare anche tu, quindi la gente, è chiaro che cresce culturalmente e questo è un passo secondo me grandioso, tutti insieme, questa è la famosa sinergia, l'emergenza non è per conto suo, l'emergenza è insieme alla medicina generale e insieme a tutti gli altri attori della sanità, questa è la crescita della sanità nazionale, per cui io sono felice, questo è il quarto anno che il dottor Milillo porta avanti questo, c'è un grande riscontro ed è veramente una cosa bellissima perché oltre a salvare le vite, mettiamo la gente nelle condizioni di poter fare anche loro qualcosa di educazione civica, proprio primo soccorso, che per altre vita qui, non è soltanto il primo soccorso, la feritina, che è proprio dare la vita a una persona. Il prossimo passo auspicabile sarebbe quello di entrare nelle scuole, se noi entriamo nelle scuole già nell'età scolare, proprio pre-scolare, negli asili, incominciamo a insegnare ai bambini cos'è la solidarietà, cos'è chiamare il sistema dell'emergenza e quindi qual è il numeretto che devono fare e man mano farli entrare in questa cultura, cosa si fa in caso di emergenza, anche l'utilizzo del device. Quindi questa è una svolta che si può fare però tutti insieme, scuole, istituzioni, medici di medicina generale, medici dell'emergenza, il 118 perché l'emergenza per l'eccellenza e quindi sono contenta che questo lo si sta portando avanti anche con la società italiana nei sistemi di emergenza, proprio per uniformare in tutta l'Italia il linguaggio per affrontare questa bruttissima possibilità che è l'arresto cardiaco, la morte cardiaca improvvisa.